Salve amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di post-produzione per principianti ovvero come post-produzione le vostre foto con due semplici click attraverso il programma Lightroom Ovviamente se siete dei fotografi professionisti o degli amatori avanzati che sanno già gestire programmi come Photoshop o Lightroom potreste non ritenere questo video interessante anche se oggi parleremo di una funzionalità particolare di Lightroom che forse non conoscete. Infatti oggi affronteremo il tema dei presets di Lightroom I preset sono delle preimpostazioni di Lightroom. Per farvi capire cosa vuol dire preimpostazioni vi faccio l'esempio di Instagram Sapete che su Instagram ogni qualvolta noi vogliamo pubblicare una foto possiamo utilizzare dei filtri cioè cambiando il filtro anche la foto assume delle caratteristiche diverse di colori, di luminosità eccetera La stessa cosa possiamo farla anche su Lightroom, cioè possiamo generare i presets che sono queste preimpostazioni Possiamo crearli noi così come possiamo anche importarli dall'esterno Il che vuol dire che ogni qualvolta noi attiviamo un preset tutte le varie funzioni di Lightroom si andranno a regolare in base alle caratteristiche di quel preset e quindi otterremo di volta in volta foto dalle caratteristiche diverse e quindi di fatto stiamo facendo una post-produzione su una foto scattata da noi e che assumerà comunque caratteristiche artistiche o tecniche ben precise a seconda del preset che noi utilizzeremo Quindi se non siete esperti di curve di viraggio, gestione dei colori, luminanza e chi più ne ha più ne metta presenti sul Lightroom la scelta del preset può essere la scelta più azzeccata per poter fare comunque un minimo di post-produzione di una foto D'altro canto vedo spesso foto che meriterebbero di più perché sono ben fatte dal punto di vista della composizione, del soggetto, dell'idea che vogliono trasmettere ma che non vengono post-prodotte e quindi gli manca un po' quella spinta per avere un impatto maggiore verso il pubblico che le guarda Quindi adesso vedremo attraverso il mio computer come scaricare dei preset già pronti da internet installarli sul Lightroom e poterli utilizzare per le vostre foto Ovviamente per poter fare tutto questo è necessario che le vostre foto siano scattate in RAW perché comunque in Joypeg non riusciremo a fare il lavoro che presto vedremo e ovviamente che voi abbiate Lightroom sul vostro PC Quindi mi trasferisco sul mio computer e vi faccio vedere passaggio per passaggio come installarli e come lanciarli per poterli utilizzare Ecco, come prima cosa apriremo Lightroom e come vedete ho già importato due foto ovviamente in formato RAW Quando apriamo Lightroom tutte le impostazioni di default sono su 0 quindi la foto appare piatta, il colore è spento, ovviamente è stata ancora post-prodotta Quindi sulla destra vedete le impostazioni da modificare che ovviamente non toccheremo perché utilizzeremo un preset A sinistra di Lightroom vedete questa serie di cartelle Queste sono già dei preset predefiniti da Lightroom Infatti se ne apriamo una vedete ci sono diverse tipologie Se clicco ad esempio su antico la foto mi appare in questo modo Devo dire che queste impostazioni a me non piacciono particolarmente Comunque adesso vedremo come scaricare e installare dei presets nuovi sicuramente più accattivanti Ovviamente quando sono andato a cliccare su un preset predefinito da Lightroom le impostazioni a destra sono cambiate Come vedete il contrasto si è abbassato a meno 50 I neri anche essi si sono abbassati Insomma ci sono state diverse modifiche nelle impostazioni Anche qui sui colori vedete che sono stati cambiati notevolmente Quindi ripristiniamo E adesso andiamo a vedere come importare dei preset da internet Ma prima di far questo proviamo a creare una cartella qui Tra quelle già presenti in Lightroom Allora andiamo sulla prima, su una, qualsiasi, va bene uguale Clicchiamo col tasto destro E facciamo nuova cartella Diamo un titolo alla cartella che chiameremo test La creiamo Ed eccola qui È stata creata qui a sinistra E ovviamente è vuota perché non abbiamo ancora niente al suo interno Bene, ora chiudiamo provvisoriamente Lightroom E andiamo su Google Facciamo la ricerca E scriviamo Lightroom Presets Free Vi consiglio di scriverlo in inglese perché la maggior parte dei siti sono stranieri Dove poter scaricare i presets di Lightroom Quindi fate la ricerca mettendo le parole chiave in inglese Ecco qui vi apre una serie di pagine di siti Come vedete sono diversi Ad esempio il primo Questo qua Vi propone 37 Free Lightroom Presets Quest'altro C'è quest'altro sito Quest'altro addirittura 380 C'è da dire che alcuni siti Hanno dei preset gratuiti Altri siti hanno sia preset gratuiti Ma anche a pagamento Ok, apriamo il primo Uno qualsiasi non fa differenza E vediamo cosa ci propongono Ecco qua siamo entrati nel sito Come vedete Questi sono tutti presets scaricabili Ognuno ha un nome E qui potete già vedere un'anteprima Di come la foto poi verrà modificata Esistono presets a colori Altri in bianco e nero Non c'è limite a scaricare dei presets E installarli su Lightroom Quindi potete scaricarne e installarne quanti ne volete Magari troviamo qualcuno Magari un pochino più accattivante Ecco magari proviamo questo Che mi sembra un po' vintage Un po' Simpatico insomma Apriamo Ecco Allora qui potete vedere anche un'anteprima Di altre foto Che questo preset Vi genererà Ecco Come effetto ovviamente Quindi In teoria ci aspettiamo Che installando questo preset E lanciandolo La nostra foto assumerà Più o meno queste caratteristiche Non è detto che otteniate lo stesso effetto Nel senso che ogni foto Ha Non so Delle prevalenze di colore O di luminosità E quindi magari questo preset Potrebbe non essere proprio adatto E quindi farvi Vedere Un'immagine Esattamente uguale a quella Attesa Insomma Comunque noi proviamo E poi vediamo eventualmente Come gestirlo Facciamo il download Eccolo già fatto Eccolo qui Ce l'ha aperto qui Nel Nel desktop Apriamo Allora una volta aperta La cartella Andiamo ad aprire Questa è una delle due Sottocartelle In particolar modo quella che ha lo stesso nome Del preset Che abbiamo selezionato Allora Di solito nelle sottocartelle Abbiamo anche altri file Vedete ad esempio questo Che è un pdf Che non ci interessa ovviamente E noi dobbiamo prendere sempre Il file Denominato Interplate Questo qui Siccome non fa il compresso Lo trasciniamo fuori E lo portiamo Sul Sul desktop Già decompresso Chiudiamo Allora E' andato a finire Qui Eccolo qua Questo è il nostro file Che adesso Installeremo Su Lightroom Quindi Non dobbiamo fare altro Che riaprire Lightroom Prendiamo qui la nostra cartella Che abbiamo Che abbiamo creato Quella Che abbiamo denominato Test Cliccando col destro Sopra la cartella Facciamo Importa Ovviamente Andiamo a selezionare Il file Che abbiamo appena scaricato Questo qui Avocado Hites Importiamo Ed eccolo qui Ecco Selezionando il file Lightroom Ha già provveduto A Postprodurre La nostra foto Infatti vedete Che è già Modificata Infatti Se la ripristino Vedete la differenza Questa è la foto Originale In formato RAW Selezionando Il preset La foto Cambia E qui Abbiamo Le varie Impostazioni Modificate Da questo preset In particolar modo Vedete la curva di viraggio Che è cambiata Ci sono altre impostazioni Come la chiarezza I bianchi I neri Insomma Ha modificato Un po' di cose E quindi Abbiamo già Fatto una Prima Postproduzione Su questa foto Proviamo Eventualmente A scaricarne Un'altra Magari In bianco e nero Un preset In bianco e nero Quindi Ritorniamo Alla home page Del sito Che abbiamo selezionato Cerchiamo Magari qualcosa Di particolare In modo da Vederla In modo diverso Ad esempio Questo preset Che si chiama Night Vision Che è un preset In bianco e nero Vediamo Dall'anteprima Come ci modificherebbe La nostra foto Un preset Molto interessante Come vedete Allora proviamo A scaricarlo Facciamo il download Eccolo appena scaricato Eccolo qua Apriamo Il file zip Rifacciamo lo stesso passaggio Apriamo la sottocartella Prendiamo il file Interplate E lo esportiamo Chiudiamo Eccolo qua Night Vision Riapriamo Lightroom Andiamo sempre Sulla cartella test Che è quella Che abbiamo creato E importiamo Anche questo Questo file Eccolo qui Night Vision Facciamo in porta Lo selezioniamo E Lightroom Ci ha già Modificato La nostra foto Come vedete Ha già Portato le modifiche Anche qui Sulle varie impostazioni Ovviamente Qui in Lightroom È segnato Il bianco e nero E La curva di viraggio È cambiata ancora Ci sono Numerose Impostazioni Modificate Anche qui Sui colori Vedete Per ottenere Questo effetto Non Tipicamente Del bianco e nero Lightroom Ha dovuto Modificare Anche La miscela Bianco e nero Dei vari colori Quindi Questa È sicuramente Una Funzione Molto interessante E Ovviamente Quando scarichiamo Un Preset Non è Per forza Statico Come Come impostazione Nel senso Che possiamo Comunque Modificare Ulteriormente Dei parametri Se non Ci vanno Esattamente A genio Nel senso Vedete Che comunque Le impostazioni Possono essere Modificate Ad esempio Se posso Cambiare Il contrasto Posso Agire Insomma Su qualsiasi Impostazione Di Lightroom Per modificare Ulteriormente La mia foto Quindi Questo È per quanto Riguarda L'importazione Dei Presets Da internet Possiamo Eventualmente Creare Noi Dei Preset Ad esempio Vi apro Quest'altra foto E quindi Ad esempio Se volessi Farla in bianco E nero Non so Poi Faccio delle Modifiche A caso Aumento Un po' Il contrasto Le luci Magari Le faccio Un pochino Più Più Forti Aumento Un po' La chiarezza Insomma Alla fine Quando ho fatto Tutte le mie Le mie Modifiche Voglio salvarmi Questo preset Che magari Può Tornarmi Utile Successivamente Posso fare In questo modo Vado qui Sul Sul più Vedete Lightroom Mi dice Cosa ho Modificato Cosa voglio Mantenere Quindi Se ci sono cose Che magari Non volete Salvare In questo preset Basta deselezionare O selezionare Se nel caso Le volete salvare E diamo un titolo Quindi lo chiamiamo Test Test bianco e nero Lo creiamo Ecco adesso Per esempio Me l'ha messo qui Ma non voglio Facciamo così Questo lo chiudiamo Rifacciamo Facciamo più Lo richiamiamo Test Bianco e nero Lo voglio salvare Nella cartella Test Quella che ho creato Prima Quindi creiamo Ed eccolo qui Il preset Che abbiamo Creato noi Quindi che non abbiamo Importato dall'esterno Per cui Se riapro Per esempio La stessa La stessa fotografia Di prima E voglio utilizzare Il preset Che ad esempio Ho appena creato Mi sarà Sufficiente Andare Qui nella cartella Test E selezionare Test bianco e nero Che è quello Che abbiamo creato Pochi secondi fa Ed eccolo qui Con le impostazioni Che avevo Che avevo Fatto io Quindi appunto Il contrasto Le luci La chiarezza Eccetera Eccetera Io avevo già Una cartella Con vari preset Presi da Da internet Vedete che Ognuno Ha Caratteristiche Diverse Quindi possiamo Insomma Scegliere Diversi Diversi Preset Fare delle Modifiche Vedere un pochino Quale Può essere più adatto Per la nostra foto Non è detto Che uno Un preset Che vada bene Per una foto Andrà bene Per tutte Le nostre foto Bisogna un po' Fare Degli esperimenti Provare Provarne diversi Ecco Eventualmente Resta il fatto Che possiamo Comunque Modificarli Andando ad agire Sulle varie Impostazioni Di Lightroom Ecco Detto questo Vi faccio vedere Anche Il preset Che avevo Creato io Appositamente Per questa foto Che l'ho chiamato Così Personale Ma Che tra l'altro Questa foto Forse l'avete vista Un po' Su Facebook Insomma Su Instagram Io questa foto Ad esempio L'ho post prodotta Così Voglio mettere a disposizione Di tutti voi Questo preset Quindi ve lo lascio In descrizione Di questo video Potete scaricarlo Tranquillamente E installarlo Sul vostro Lightroom Se questo preset Appunto vi piace L'ho chiamato Street Level E quindi Questo è il preset Del nostro gruppo Del nostro canale Quindi se vi piace Scaricatelo pure E installatelo Sul vostro Lightroom Amici Spero che questo video Vi sia stato utile E che Da adesso in poi Possiate post produrre Al meglio Le vostre foto Quindi vi ringrazio Vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video E sempre qui sul canale Di Street Level Photography Ciao E a presto